Alle 18 sul canale Viola inizia una live speciale, questo è il nome, vi aspetto. Faremo diverse cose, tra cui una prova a non ridere anime con i video che mandate voi. Non solo, ci sarà anche uno spoiler sulla serie di Secrets che ritornerà con Ele ad agosto e tornerà anche la ruota delle penitenze con all'interno caffè e sale e molte altre. Vi aspetto alle 18, eh? Signori, siamo tornati con Anime News e come al solito ci sono diverse notizie succulente da sviscerare. Lasciate un mi piace per supportarmi al massimo, confido come sempre in voi e prima di iniziare vi ricordo che il video si è diviso in capitoli, ma vi consiglio la visione totale per rimanere più aggiornati. Non mi dilungo oltre, iniziamo. Partiamo dal ritorno nelle notizie in Anime News di un titolo che ci ha tenuto compagnia per mesi e mesi, l'incredibile, il formidabile, l'immancabile, Demon Slayer dei Nokami Chronicles. Risorge dalle sue ceneri. So che vi è mancato averlo nelle notizie. Scherzi a parte, credo veramente sia uno dei titoli più nominati all'interno di Anime News. Comunque la notizia di oggi riguarda finalmente l'aggiunta di Tengen all'interno del gioco. Attenzione però, si tratta di un DLC a pagamento, quindi bisognerà pagare per ottenere l'amatissimo pilastro. In contemporanea comunque è stato rilasciato anche un aggiornamento gratuito che ha inserito come arena l'Entertainment District. È anche parecchio figa dalle immagini. Sinceramente ragazzi ho lasciato indietro diversi mesi fa questo gioco dopo averlo completato quasi del tutto. Il live con voi per inciso. Non credo proprio di voler andare a spendere dei soldi in un DLC che giocherai se no per un giorno. Detto ciò, chi gioca ancora questo titolo soprattutto in Ranked probabilmente dovrà andare a comprarlo. Ma fatemi sapere la vostra sotto nei commenti, soprattutto se l'avete già preso. Com'è? È stato rilasciato un nuovissimo trailer per il nuovo film di Makoto Shinkai Suzume no Tojimari. È stato rilasciato tramite il Twitter ufficiale dedicato al titolo, nel quale sentiamo peraltro per la prima volta la voce della doppiatrice che interpreterà Suzume, una giovanissima diciottenne di nome Nanoko Hara. Vi aggiungo anche una piccola curiosità simpatica. Nanoko è stata scelta in persona da Shinkai durante un'audizione con più di 1700 persone. Comunque Crunchyroll ha annunciato che porterà a livello globale questo film all'inizio del 2023, Asia esclusa chiaramente. L'anime in Giappone debutterà, vi ricordo, proprio il prossimo 11 novembre. Per quanto dal trailer questa pellicola sembri ripercorrere la scia di Your Name e Weathering With You, penso proprio che andrò a vederlo al cinema. In primo luogo per supportare chiaramente l'animazione giapponese nei cinema italiani e in secondo luogo alla peggio per godermi le musiche, che sicuramente saranno assurde. In live in questi giorni ho scoperto che molti di voi apprezzino effettivamente la nuovissima opening di Overlord, quindi quella della quarta stagione per intenderci. Bene, linkata in descrizione vi lascio proprio l'opening Creditless, quindi come da nome senza crediti. Quindi mi raccomando è linkata sotto, andate a vederla, magari l'apprezzerete ancora di più per le immagini proposte senza scritte. Mi dispiace, devo aggiungerlo, altrimenti la mia testa va in tilt, quella di Made in Abyss 2 è imbattibile come opening, chiariamoci. Oh ragazzi miei, una notizia che sicuramente farà felice tutti gli amanti delle action figure. All'interno del Japan Expo di Parigi tenutosi negli scorsi giorni, era possibile visitare lo stand di Good Smile Company. Bene, proprio nello spazio a loro dedicato all'interno della fiera è stato possibile scoprire alcuni dei loro piani per il futuro. Ebbene sì, tra questi vi è il lancio di uno store online basato in Europa. Il sito, che peraltro è già visitabile, presenta la scritta Good Smile Company e rilascerà un sito in Europa a breve. Capite bene che con una sede più vicina in Europa si abbasseranno clamorosamente le spese di spedizione rispetto al comprare action figure dall'altra parte dell'oceano. Ma non solo, soprattutto non ci sarà più la dogana a gonfiare le spese delle action figure. Tanta roba. Non vedo quindi l'ora di poter fare i piggio acquisti sulla sezione europea di Good Smile Company, sono già in hype ora, voglio scoprire tutti i loro articoli, mamma mia. Abbiamo parlato, diversi anime news fa, della pausa presa da Vanitas Nocarte. L'autrice su Twitter ha aggiornato i fan dell'opera, sottolineando il fatto che questo periodo di pausa le permetterà di rimettersi pienamente in forze, scrivendo anche che cercherà di tornare il prima possibile. Inoltre scrive anche che durante questa pausa si impegnerà a migliorare l'ambiente lavorativo e a cercare nuovi materiali, nonché a provare nuovi stili di disegno. Quindi ragazzi miei ancora ad oggi non abbiamo una data per quanto riguarda il ritorno del manga di The Case Studio of Vanitas. Ma direi che questo aggiornamento da parte dell'autrice sollevi abbastanza i fan. Voi che dite? Seguite il manga di Vanitas? Signori miei, quanti di voi che stanno guardando questo video sono fan di Evangelion? Spero tutti a dirla tutta per l'appunto. E anzi, vi converto io altrimenti. Comunque a settembre vi voglio tutti al cinema per vedere l'ultima rebuild di Evangelion con nuovo doppiaggio targato Dynit al cinema. Precisamente sarà trasmesso nelle sale italiane il 12, 13 e 14 settembre. Mi raccomando segnatevi le date fin da subito. Me l'ero vista al day one di rilascio su Prime Video questa rebuild ma non mi farò scappare la trasmissione al cinema per nulla al mondo sinceramente. Lo voglio vedere sul maxi schermo a mani bassissime. E' stato rilasciato un nuovissimo trailer per il film di One Piece Red all'interno del quale possiamo sentire nuovamente la fantastica voce di Hado più e più volte. Tra l'altro questo trailer è importantissimo perché lascia intuire ancora maggiormente il rapporto che vi è tra Shanks e Uta. Sono davvero in hype ormai per scoprire tutto quello che questo film ha da raccontarci. Vi ricordo ragazzi tra l'altro che questo film One Piece Red sarà possibile vederlo a Lucca Comics quindi dopo questo video andate subito a comprare biglietti anche perché in fiera sarò presente pure io. Ma al che vada incontrate me. Al 90% sarò presente a Lucca Comics vi terrò aggiornati. Comunque probabilmente l'evento sarà davvero fighissimo e non vedo l'ora di venire a conoscenza di tutti i gadget e le varie attività che verranno proposte per One Piece Red. Vi ho inserito insomma due notizie in una il trailer Red a Lucca wow ci sono tante cose per questo film e l'hype ripeto inizia a salire incredibilmente. Tra l'altro nel trailer che trovate linkato in descrizione vi ricordo così come tutti i trailer di Anime News è possibile vedere in determinati punti magari anche fermandolo determinati personaggi molto interessanti e già ben noti all'interno del mondo di One Piece. Anche questo aspetto mi mette un sacco di hype. FilmArcs ha recentemente pubblicato la classifica di gradimento di film, drama e anime del primo semestre del 2022 dall'1 gennaio al 30 giugno. Chiaramente i dati sono raccolti dal loro servizio. E sì ovviamente lo specifico prende in considerazione produzioni che sono uscite nel territorio giapponese nel 2022 film, anime e così via. Ricordo anche che FilmArcs, servizio di cui abbiamo in realtà già parlato più volte all'interno di Anime News, è per l'appunto il servizio giapponese più importante che si occupa di recensione di anime, film e drama. Peraltro senza affiliazione. Comunque dopo le dovute premesse arriviamo alla notizia. Indominate un pochino chi troviamo al primo posto di questa fantomatica classifica di gradimento? L'avrete in realtà letto dai capitoli del video, ma dettagli. Stiamo parlando della seconda parte della final season dell'attacco dei giganti. Out come al solito spacca malamente, ovunque, in qualsiasi cosa, sempre. Ma vi citerò anche il secondo posto, ovvero Kaguya-sama Lobby's War Ultra Romantic, quindi la terza stagione di Kaguya-sama, che come ben sappiamo è stata amatissima. E arriviamo anche al terzo posto, occupato da Spy Femmini, altra serie che è stata sicuramente amatissima in tutto il mondo e non solo in Giappone, nel 2022. Direi che queste tre prime posizioni erano davvero scontatissime, vero? I tre anime più discussi e che hanno generato più fanbase in questa prima parte del 2022, poco da dire. E voi quale preferite tra questi tre titoli? Uno molto diverso dall'altro, quindi sono molto curioso di sapere la vostra. Amori miei, concludiamo parlando di Chainsaw Man. Che ne dite? Iniziano infatti a girare voci sul rilascio di un possibile nuovo trailer proprio al Crunchyroll Expo di agosto. Il che, peraltro, avrebbe anche senza ombre di dubbio senso. La fanbase è già in hype e nel mentre vi ricordo anche che Chainsaw Man per un determinato periodo ha superato One Piece come utenza settimanale. Va bene, per la mancanza del capitolo di One Piece, ma sti cazzi, ha avuto dei numeri veramente altissimi. Questo dimostra già in partenza quanta fanbase ci sia dietro l'opera e stiamo parlando solo del manga. Aggiungiamo anche che una dichiarazione su tutte ha lasciato davvero ben sperare per la produzione animata. L'anime di Chainsaw Man non avrà alcun tipo di censura. Insomma, ragazzi, dietro questo titolo già da ora si nasconde un hype incredibile. Come ormai vi dico da mesi, qualora Mappa lo adattasse nel migliore dei modi e con un comparto tecnico pari o addirittura superiore a quello di Jujutsu Kaisen, l'anime di Chainsaw Man diventerà un fenomeno virale a livelli clamorosi. Confido tantissimo nello staff dietro questa produzione e quindi nulla, spaccate. Con Chainsaw Man le possibilità per creare un prodotto superbo tecnicamente ci sono decisamente. Mamma mia che hype solo per vederlo sullo schermo, vi giuro. E voi state leggendo Chainsaw Man? Cosa ne pensate? Mi raccomando, fatemelo sapere sotto nei commenti. Il video giunge al termine, spero come al solito che vi sia piaciuto e se è così vi invito a lasciare un mi piace e un commento facendomi sapere le notizie che vi hanno più colpito. Vi aspetto in live questa sera così come tutte le sere, un saluto al Tia, ciao ragazzi!